Sì, grazie signor Presidente, secondo me la tariffa puntuale non è argomento della serata, però voglio leggere quattro righe al volo, sono quattro che ho preso da internet, scusate. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di arrivare a far sì che ogni utenza paghi in modo sempre più legato alla sua reale produzione di rifiuto, con l'attribuzione personalizzata dai costi, attraverso la contabilizzazione puntuale dei rifiuti prodotti, sulla base dei principi europei, chi inquina paga e pago per quello che butto, valorizzando comportamenti virtuosi alla fine di ottenere risultati ancora più apprezzabili nella raccolta differenziata e nella riduzione della produzione dei rifiuti stessi. Ecco che per centrare questo evento obiettivo, la Giunta Antonelli, su input dell'assessore Artusa, ha dato mandato ad Ager S.P.A. di sviluppare un progetto ed estendere su tutto il territorio comunale un sistema di misura dei rifiuti al fine di consentire la determinazione di reale conferimento di rifiuti indifferenziati da parte di ogni singola utenza domestica e non domestica, per l'effettivo passaggio a tariffa di rifiuti puntuali, avente natura corrispettiva, con decorrenza 1 gennaio 2025. Mi pare che in quel dibucio Artizio non ci sia una giunta di centro-sinistra. Grazie.